Ciao amici, bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi. Mi avete spesso chiesto sotto i commenti di parlare di alcuni casi dei famosi coniugi Warren e ho ben pensato di fare un video dove vi parlo un po' di loro e di alcuni dei loro casi più famosi. Non parlerò di tutti i loro casi anche perché a conti fatti la coppia ha studiato ben 10.000 casi nel corso della loro carriera, ma oggi vi parlerò delle storie più famose e che in un certo senso hanno fatto discutere molto, ma prima di addentrarci nel video assicuratevi di essere iscritti al canale e di aver attivato la campanellina delle notifiche così da restare sempre aggiornati sui miei prossimi video. Detto questo inizierei subito perché il video di oggi sarà abbastanza lungo, quindi mettetevi comodi, sigla e partiamo subito con la storia di oggi. Se negli Stati Uniti nel corso degli anni si è sentito parlare di casi di spiritismo e possessione ci sono ottime possibilità che Ed e Lorraine Warren fossero in qualche modo coinvolti in questi casi. Il 18 aprile 2019, quindi non molto tempo fa, all'età di 92 anni è scomparsa Lorraine Warren, investigatrice del paranormale e moglie di Ed, scomparso il 28 agosto 2006. I Warren sono stati senza dubbio gli investigatori paranormali più famosi del mondo, presenti in alcune delle storie più famose di fantasmi e possedimenti demoniaci. Ma chi erano i coniugi Warren? Edward Warren fu un veterano della Seconda Guerra Mondiale, nato a Bridgeport, Connecticut il 7 settembre 1926. Ex ufficiale di polizia, diventato un demonologo autotidatta che si guadagnò il titolo di unico demonologo riconosciuto dal Vaticano. Lorraine Rita Moran, nata anch'essa a Bridgeport, Connecticut il 31 gennaio del 1927, era invece una medium chiaroveggente. La coppia si sposò nel 1945 e ebbe una figlia di nome Judy Warren. Entrambi appartenevano come credo alla chiesa cattolica romana e sostenevano che la mancanza di fede potesse lasciare aperto un varco alle forze demoniache. Nel 1952, spinti dal loro credo e passione per il paranormale, insieme fondarono la New England Society for Psychic Research. Lorraine gestiva anche il museo dell'occulto insieme al genero Tony Spera. Nel famoso museo dell'occulto che oggi è chiuso, situato nel semi interrato della loro casa, conservarono in massima sicurezza vari oggetti legati proprio alle loro indagini. Il museo dell'occulto dei Warren è il museo più antico e unico nel suo genere. Questo famoso museo infatti nel corso degli anni ha attirato centinaia e migliaia di visitatori da tutto il mondo. La struttura è una costruzione di vita alla raccolta e alla catalogazione di oggetti che sono stati collegati in un qualche modo a casi di possessione diabolica, infestazione ad opera di spiriti e ad ogni altro tipo di fenomeno paranormale. Ogni angolo del museo infatti ospita la più grande varietà di manufatti oscuri o legati a fantasmi. Un gran quantitativo di reliquie e oggetti di ogni tipo che in qualche modo sono stati contaminati da forze maligne e che nonostante siano state purificate possono ancora essere considerate come dei portali pericolosi. Infatti si sostiene che toccare uno di questi oggetti sarebbe l'opposto di toccare qualcosa di santo e di benedetto. Tuttavia la coppia dal 1952 e nei successivi 50 anni ha studiato oltre 10.000 casi e ha scritto diversi libri sul paranormale e tutto questo ovviamente non senza polemiche poiché i loro casi più eclatanti attiravano purtroppo l'attenzione di numerosi scettici che dubitavano delle loro capacità e delle loro motivazioni come investigatori del paranormale. Tra gli scettici c'era la New England Skeptical Societive in particolare Perry De Angelis e Stephen Novella i quali hanno messo sotto la lente di ingrandimento molti dei casi dei Warren definendoli privi di fondamento e seppur mossi da un forte sentimento religioso al limite dell'invenzione. Per quanto se ne dica su di loro si legge che Ed e Lauren Warren non chiedessero mai soldi per le loro consulenze ma solo il rimborso delle spese di viaggio. Erano per lo più guidati dalla passione per il loro lavoro e spesso davano anche lezioni sulle loro teorie nelle aule universitarie. Quelli di cui vi parlerò oggi sono solo 5 casi più eclatanti a cui i coniugi Warren hanno lavorato il che ha contribuito a renderli i cacciatori di fantasmi più famosi del mondo. Il famoso caso di Amityville che sicuramente molti di voi già conoscono è secondo me il più famoso di tutti i casi paranormali che Ed e Lauren Warren hanno indagato e forse il più famoso e ossessionante della storia culturale americana. Ad ogni modo amici cercherò di sintetizzare per quanto possibile senza tralasciare comunque i dettagli della storia e così farò anche per gli altri casi. Il protagonista di questo primo caso è Ronald DeFeo, primo genito dei cinque figli della famiglia. Fin da piccolo si dice che era picchiato da suo padre, un uomo descritto come autoritario e propotente che molto spesso picchiava i figli e la moglie. Il figlio preferito ma anche il più picchiato infatti era proprio Ronald per cui aveva alte aspettative. Ma il ragazzo era anche spesso vittima di scherzi e umiliazioni da parte dei suoi compagni di classe. Tuttavia crescendo cominciò a litigare quotidianamente con il padre così come con i suoi pochi amici. La sua famiglia preoccupata lo portò da uno psichiatra ma le visite non ebbero l'esito sperato dato che lo stesso Ronald si dice che negò di aver bisogno di aiuto. Ad ogni modo crescendo la situazione andava sempre peggio. Il suo comportamento peggiorava e le sue brutte abitudini come l'assunzione di droghe e liti che sfociavano in furiose risse violente aumentavano come anche le discussioni con il padre che divennero sempre più accese. Tanto che più volte lo stesso padre lo definì un demonio. Ad ogni modo non passò molto che Ronald desideroso di avere più denaro nelle sue tasche decise di rubare nella concessionaria gestita dal padre a cui aveva dedicato metà della sua vita. Dopo la rapina il padre capì quasi subito che dietro quel gesto c'era la mano di suo figlio. Così si aprì una litigata molto accesa seguita da una minaccia da parte di Ronald nei confronti del padre a quanto pare l'ultima prima dell'orribile vicenda. Intorno alle 6.30 del mattino del 13 novembre 1974 Ronald DeFeo irruppe in un bar della sua città a Long Island New York chiedendo aiuto e dicendo che qualcuno aveva sparato ai suoi genitori. DeFeo e un gruppo di persone si recarono successivamente al 112 Ocean Avenue non lontano dal bar e trovarono i coniugi DeFeo senza vita. Ad ogni modo amici vi risparmio tutte le indagini avvenute su questo caso e arrivo al sodo. Ronald DeFeo uccise brutalmente tutta la sua famiglia con un fucile da caccia prima di consegnarsi e poi affermare che le voci di entità demoniache gli avevano detto di farlo. Dopo aver ucciso i sei componenti della sua famiglia Ronald DeFeo venne incarcerato e dopo circa un anno dopo la tragedia la casa fu venduta alla famiglia Lutz che si trasferì il 18 dicembre 1975. Era il 14 gennaio 1976 quando a soli 28 giorni dal loro ingresso nella casa di Amityville i Lutz fuggirono terrorizzati da casa dichiarando che al suo interno succedevano cose terribili. Raccontarono di mosche morte, voci disincarnate, strani odori e avvissamenti di una figura demoniaca con una parte della sua testa spazzata via. Katie Lutz cominciò ad avere incubi ed avere lividi sul corpo oltre che a levitare nel sonno mentre George Lutz iniziò a svegliarsi esattamente alle 3 e un quarto del mattino che si dice sia il momento in cui proprio DeFeo ha ucciso la sua famiglia. La giovane figlia Missy cominciò a parlare anche di un amico immaginario di nome Jodie che aveva gli occhi arrossati e lineamenti deformi. Da lì a poco anche delle strane impronte di zoccoli cominciarono ad apparire intorno alla casa. Ed e Lauren Warren furono tra i primi investigatori a rispondere alla richiesta di aiuto da parte della famiglia terrorizzata. infatti nel febbraio del 1976 seguiti dalla troupe televisiva che riprendeva ogni loro spostamento dopo aver compiuto il loro studio della casa i Warren indichiararono di aver percepito delle presenze orribile catturando successivamente l'immagine di un ragazzo che si crede possa essere lo spirito di uno dei bambini assassinati da DeFeo. Poche settimane dopo gli investigatori ritornarono nella casa insieme ad altri esperti del paranormale e nella casa si svolse una prima seduta spiritica durante la quale ben due persone si sentirono male. Nel cuore della notte i presenti parteciparono ad una seconda seduta spiritica questa volta in una stanza del piano superiore dove secondo i coniugi Warren le presenze erano più forti. Durante questa seduta fu proprio Lorraine ad affermare di aver percepito un'entità così terribile che sembrava provenire dalle viscere della terra. I Warren arrivarono a credere che la casa fosse infestata da un demone violento e arrabbiato e lavorarono a lungo per esorcizzarlo. Infine la storia e l'indagine divennero la base per il libro The Amityville Horror che divenne poi la base di numerosi adattamenti cinematografici più o meno riusciti. Ma ora passiamo al secondo caso molto interessante studiato dai coniugi Warren ovvero l'inquietante caso demoniaco in Connecticut. Il caso avvenne appunto nel Connecticut nel 1986 scoprirono dopo essersi trasferiti che il semi interrato della casa conteneva attrezzature particolarmente strane. Tuttavia dopo aver fatto alcune domande sono stati informati che la casa era stata una volta un'agenzia di pompe funebri. La famiglia non credendo alla possibilità che queste attrezzature in un qualche modo potessero nuocerli rimasero lì credendo di non dover vedere quello che poi hanno visto. In seguito si è saputo che la camera da letto dei bimbi più piccoli era stata la stanza di esposizione delle bare. Quella sotto al salone era adibita alla camera mortuaria per la preparazione delle salme mentre nel semi interrato furono trovate fotografie dei morti e parti di bare lasciate dagli ex proprietari. La famiglia Snedeker iniziò fin da subito a percepire gli effetti di una possessione demoniaca. Appunto la signora Carmen descrisse così le presenze di casa Snedeker. Uno dei demoni era molto magro con zigomi alti e lunghi capelli neri. Un altro aveva capelli occhi bianchi, indossava uno smoking gessato e i piedi erano costantemente in movimento. La famiglia Snedeker ha iniziato ad avvertire rumori inspiegabili e visioni spettrali finché la tranquillità familiare fu letteralmente sconvolta dai fatti. Carmen dichiarò anche che in casa si sentiva costantemente un odore sgradevole di carne marcia. Le luci si accendevano e spegnevano da sole e i piatti cambiavano posizione. Anche il figlio Philip subì interferenza dagli spiriti malefici che vivevano nella casa con si dice improvvisi cambiamenti di personalità e scatti di ira immotivati. All'inizio i comportamenti e i racconti di Philip non furono creduti fino in fondo ma la madre pensava che il ragazzo fosse frastornato dalle medicine che assumeva. Tuttavia in seguito i medici esclusero questa possibilità. Esasperati dai continui fatti inquietanti che funestavano le loro giornate la famiglia decise di chiamare coniugi Warren. Questi constatarono che la casa era infestata sia da fantasmi che da demoni. Secondo quanto riferito da Loren i fatti accaduti all'interno della casa degli Snedeker furono molto ma molto più drammatici rispetto a quanto raccontato dal film. Tuttavia la casa fu liberata dalle presenze demoniache grazie ad un esorcismo nel 1988. Dopo che i Warren hanno esorcizzato e benedetto la casa e gli Snedeker si sono trasferiti fuori non hanno appunto più subito ulteriori molestie da parte degli spiriti. Ma ora passiamo al terzo caso di cui vi voglio parlare ovvero quello della famiglia Perron. La vera storia della famiglia Perron è uno dei casi di possessione demoniaca più inquietanti della storia. I fatti accadono a Warrisville, Rhode Island nel 1971 fatti che sconvolsero la vita dei coniugi Perron e delle loro cinque figlie. Era il mese di gennaio e la numerosa famiglia Perron si insediò nella nuova dimora un'antica tenuta di 14 camere lasciando così la città per una vita più tranquilla nelle campagne della contea di Providence. La tenuta chiamata The Old Arnold Estate fu costruita nel 1736 e abitata da ben otto generazioni. Tuttavia sin dal loro primo ingresso nella fattoria i Perron ebbero a che fare con fenomeni alquanto strani e l'incontro con presenze inquietanti. All'inizio il clima della casa era comunque sereno con la famiglia che ci aveva fatto l'abitudine a porte che si chiudevano da sole e oggetti trovati spostati. In seguito però quelli che erano piccoli dispetti innocenti si trasformarono in vere e proprie persecuzioni e tutti ebbero la sensazione che la natura dei fenomeni stesse diventando sempre più negativa. Nel giro di poche settimane la situazione in casa Perron diventò sempre più pesante. Le entità che infestavano la fattoria iniziarono a calcare la mano sui dispetti. Le bambine si sentivano tirare le gambe mentre erano a letto, subivano anche delle aggressioni e le porte iniziarono a sbattere sempre più violentemente mentre di notte si sentivano delle urla di bambini. Le presenze cercarono di fare del male anche alla signora Perron. Non sappiamo però quale fu il fatto più terribile accaduto alla fattoria perché la famiglia si rifiutò di raccontarlo. Andrea Perron ha dichiarato diciamo solo che in casa c'era uno spirito maschile molto cattivo con cinque piccole ragazze. L'intera famiglia tuttavia si spaventò molto a causa di questo episodio e iniziò a fare qualche ricerca sul passato della fattoria. Nel frattempo chiesero anche aiuto all'esterno e incontrarono così i coniugi Warren. Nel frattempo i Perron scoprirono i dettagli della storia della tenuta. Ben otto generazioni di una vasta famiglia hanno vissuto e sono morte in quella casa prima dell'arrivo della famiglia e alcune di loro non se ne sono mai effettivamente andate. Nel passato della fattoria della famiglia Perron infatti presto si venne a scoprire che al suo interno si erano consumati due suicidi per impiccagione, un suicidio per avvelenamento, due annegamenti e quattro donne scomparse nel nulla. I Perron scoprirono che ad infestare la fattoria era lo spirito di una donna vissuta più di un secolo prima. Fu a quel punto che la famiglia Perron entrò in contatto con Edda e Lorraine Warren. Successivamente infatti la coppia di investigatori visitò la fattoria e studiò il caso Perron e l'infestazione della tenuta da parte dello spirito della donna fu confermato dalle sedute medianiche effettuate da Lorraine Warren. Questa donna era vissuta nella dimora nel XIX secolo, aveva sacrificato suo figlio a Lucifero e in seguito si era uccisa impiccandosi ad un albero della fattoria. Lorraine confermò che lo spirito maligno era intenzionato a possedere Caroline. I Warren dichiararono che stava ancora perseguitando la loro proprietà e fu responsabile di diverse morti e suicidi sulla terra, comprese le case vicine che un tempo appartenevano alla fattoria, prima che fosse suddivisa. Come spesso è accaduto durante le investigazioni dei Warren, le loro affermazioni sono state un po' messe in dubbio. Infatti anche nel caso della famiglia Perron, gli scettici non si sono trattenuti dall'avanzare l'ipotesi che la storia sia stata ricamata dal folklore popolare e abbia perso la mera base scientifica. Durante le loro indagini, Warren hanno riferito che le loro attrezzature hanno subito spesso dei malfuzionamenti. Lo spirito della donna cercava di tentare il signor Perron, tormentando in modo crudele anche la moglie. Lorraine successivamente propose un esorcismo e la famiglia approvata dagli eventi acconsentì. Stando a quanto raccontato dai presenti, qualcosa durante l'esorcismo non funzionò. I Warren lasciarono la fattoria e la famiglia Perron continuò ad abitare nella tenuta sino al 1980. Negli anni la signora Perron riferì che avevano semplicemente accettato di convivere con la presenza della casa. La Old Arnold Estate oggi è abitata da un'altra famiglia che ha confermato la presenza di entità ma di fenomeni meno intensi di quelli accaduti ai Perron. Ma ora vi voglio parlare di un altro caso molto inquietante, ovvero il caso della famiglia Smurl, una storia vera che ha visto come protagonisti Jack e Janet Smurl, nella loro casa di West Pitston, Pennsylvania. I coniugi Smurl riferirono una serie di inquietanti fatti drammatici accaduti proprio nella loro abitazione, tra il 1974 e il 1989. Una volta stabilitisi nell'appartamento a fianco dei genitori John e Mary, Jack e sua moglie Janet iniziarono la loro nuova vita con le loro due bambine. Se per qualche mese tutto sembrava procedere per il meglio, ad un certo punto inizierono ad accadere dei fatti molto strani che irruppero la loro serenità. Era il gennaio 1974 quando improvvisamente comparve un'inspiegabile macchia sulla moquette. Il televisore esplose così come i tubi idraulici e furono anche trovati dei graffi profondi sul pavimento di legno e sui sanitari. In seguito la situazione andò peggiorando coinvolgendo anche la figlia maggiore che iniziò a vedere delle figure vicino alla sua stanza. Passarono due anni e a questo punto gli Smerl erano consapevoli che nella loro casa qualcosa non andava. Ad un certo punto in tutta la casa la famiglia iniziò a sentire un disgustoso odore di acido e Jack iniziò a percepire la strana sensazione di una mano invisibile che lo accarezzava. Ma ciò che succedeva ai tempi in casa a Smerl era solo l'inizio di tutta una serie di episodi ancora più drammatici che la famiglia avrebbe vissuto da lì a breve. La situazione infatti precipitò in concomitanza con l'arrivo delle gemelline Carilene e Sharon. Dal 1985 in casa Smerl iniziarono ad accadere appunto fatti così spaventosi da lasciare impietriti. La temperatura in casa era sempre molto bassa e i genitori di Jack sentivano spesso delle voci oscene provenienti dall'appartamento del figlio sebbene la coppia non fosse in casa. La stessa famiglia era continuamente tormentata da voci e rumori angoscianti. In un'occasione Janet Smerl si trovava nello scantinato e sentì una voce che la chiamava ma in casa in quel momento non c'era nessuno. In un'altra occasione ancora la donna si trovava in cucina e si trovò di fronte un'ombra che attraversò la stanza e svanì letteralmente nella parete che divideva i due appartamenti. Straordinariamente anche la suocera Mary riferì di aver visto quest'ombra uscire dal muro nello stesso istante. Ben presto si presentarono dei fatti che tuttavia avrebbero potuto arrecare in qualche modo danni alla vita degli stessi abitanti della casa. Un giorno infatti il ventilatore si staccò dal soffitto e cadde addosso a Shannon rischiando quasi di ucciderla. Sia Jack che Janet inizierono a levitare e una notte Janet fu trascinata fuori dal letto da una forza malifica mentre il marito si sentì come paralizzato nel letto senza poterla aiutare. La vita degli smurl era sconvolta da questi fatti ma le manifestazioni si spinsero anche fuori dalla casa. Furono molti vicini a riferire di grida disumane nella casa sebbene tutti gli smurl fossero usciti. Ad inizio 1986 la situazione era diventata insostenibile ed è così che gli smurl decisero finalmente di contattare la coppia di investigatori del paranormale Ed e Lauren Warren. La coppia accompagnata da un'infermiera dai poteri psichici iniziò le proprie indagini nella casa infestata confermando successivamente la presenza di un demone. Ad un certo punto dopo la benedizione della casa sembrava che la situazione si fosse normalizzata ma un altro episodio drammatico sconvolse tutti. Jack fu letteralmente violentato da un demone che si presentò con le sembianze di una donna anziana dal corpo giovane. Lo stesso inquietante destino toccò anche alla moglie Janet. Fu così che la coppia stravolta dagli eventi si rivolse direttamente alla diocesi senza però ricevere una soluzione al problema. Così furono Warren a portare sulla scena Robert McKenna, un prete che aveva alle spalle oltre 50 esorcismi. Purtroppo questa entità era così forte che né il primo né il secondo esorcismo di padre McKenna sortirono alcun risultato. A quel punto la famiglia disperata decise di farsi intervistare da una televisione locale per attirare l'attenzione dei media sul loro caso. Purtroppo la casa degli smurl diventò presto un'attrazione turistica per i curiosi e amanti del paranormale. Era l'agosto 1986 e il caso divideva l'opinione pubblica in chi era sicuro della buona fede della famiglia e chi invece pensava che tutta l'intera facenda fosse solo un'invenzione nel tentativo di guadagnarci qualcosa. Ad un certo punto intervenne anche una medium di nome Mary Alice Rinkman che confermò la presenza di ben quattro spiriti. Uno era quello di una donna anziana di nome Abigail, un altro era un uomo di colore di nome Patrick. Quest'ultimo aveva ucciso la moglie e l'amante mentre l'ultimo spirito non fu identificato ma parlò di un potente demone. Verso la fine del 1986 padre McKenna decise di tentare un ultimo esorcismo. Questa volta sembrò che la pace aveva fatto ritorno a casa degli smurl. La famiglia visse nella serenità per circa tre mesi fino a quando Jack rivide la sagoma nera. Si ripresentarono i rumori e le aggressioni. Fu a seguito di questo nuovo fallimento che gli smurl sfiniti e demoralizzati nel 1986 lasciarono definitivamente la casa per trasferirsi a Wilkes Bear. Stranamente la nuova inquilina di quella casa, la signora Deborah Owen, riferì di non aver percepito nulla di strano nella casa. Tuttavia la famiglia fu liberata definitivamente dalla possessione quando nel 1988 la chiesa compì il quarto esorcismo che risultò efficace. Bene amici, ora passiamo al quinto ed ultimo caso che ho scelto per questa lista, ovvero il caso conosciuto come il lupo mannaro demoniaco a Londra. Forse il più bizzarro di tutti i casi dei coniugi Warren, incentrato sull'esorcismo di un uomo apparentemente tenuto prigioniero da un demone licantropo. William Bill Ramsey sin dalla tenera età aveva sofferto di disturbi comportamentali che i suoi genitori non erano riusciti a definire e a curare. Sembra che questi strani fenomeni abbiano avuto inizio all'età più o meno di nove anni, quando nel 1952 dopo aver visto un film al cinema con i genitori, si trovava nel giardino a giocare. Immaginando di essere un pilota di aerei e di volare come essi, ad un certo punto avvertì un freddo gelido ed iniziò a sentire uno strano odore, paragonabile più o meno a quello di un animale bagnato. Incominciò così ad urlare, a squarciagole e a strappare con i denti l'erba del giardino, mentre nel frattempo il cielo si era oscurato. La madre, preoccupata dal comportamento del figlio, uscì per calmarlo, ma Bill iniziò a ringhiarle contro e strappò la recensione del giardino a morsi e a mani nude. Anche il padre intervenuto non riuscì a calmarlo in nessun modo, finché non si rifugiarono in casa in attesa che si fosse calmato, cosa che successe appunto in serata. In un'altra occasione i genitori di Bill lo videro strappare un palo di cemento da terra e romperlo direttamente di fronte a loro e per anni non vi furono più altri episodi del genere. Tempo dopo Bill si sposò e iniziò a condurre una vita normale, fino a che una sera si svegliò nel cuore della notte iniziando a ringhiare e a ululare come un lupo, preoccupando non poco i familiari. Il suo comportamento peggiorò con il passare degli anni, fu successivamente ricoverato presso il Stunted Hospital a causa di un dolore al petto. Durante la sua permanenza in attesa di essere visitato su una barella attaccò a morsi un'infermiera prima che il personale medico riuscisse a sedarlo. All'arrivo della polizia allertata dai sanitari fu portato successivamente in caserma per poi essere ricoverato in un ospedale psichiatrico della città. Il 22 luglio 1987 Bill si recopre sulla stazione di polizia di Stunted dove chiese ai poliziotti di essere rinchiuso in cella, temendo di poter essere pericoloso per gli altri. Ma gli agenti dopo aver esaminato i precedenti di Bill e non trovando alcun reato si rifiutarono di eseguire l'arresto. All'improvviso iniziò a ringhiare come un animale rabbioso nei confronti del sergente Terry Fisher che fu afferrato per la gola e sollevato in aria e lanciato a terra con una forza sovraumana. Intervennero altri agenti che furono scagliati via dall'uomo come dei fiammiferi finché in massa riuscirono a bloccarlo e a rinchiuderlo nella camera di sicurezza della caserma. Poco dopo Bill riuscì a sfondare la porta della camera che era spessa e resistente rimanendo incastrato con la testa e il braccio. A proposito di questo episodio l'agente Tony Belford racconterà non ho mai visto niente del genere in vita mia nel vedere un essere umano fare cose del genere. Ci vuole una dose tre volte superiore a quella necessaria per sedare una persona per calmarlo e furono chiamati i pompieri per estrarlo dalla porta. I magistrati di Soundhead ordinarono che Bill venisse inviato a Runwell Hospital per un esame psichiatrico per cercare di identificare la causa di un comportamento così terrificante. Ma una volta in ospedale mentre eseguiva degli esami l'uomo non fu in grado di ricordare nessuno degli eventi e gli psichiatri supposero potesse soffrire di una malattia mentale nota come licantropia clinica in cui le persone credono di essere un animale e di comportarsi come loro. I media iniziarono ad interessarsi al caso soprannominandolo il lupo mannaro di Soundhead. I coniugi Ed e Loren Warren che dopo aver visto un documentario sul caso in cui si ipotizzava una possessione demoniaca contattarono Bill e il 28 luglio 1989 Bill viaggiò attraverso il Connecticut negli Stati Uniti per incontrare i Warren e fu portato nella cappella della Madonna del Rosario in cui un vescovo assieme ai coniugi e due guardie armate condusse un esorcismo sull'uomo ed è stato riferito come un calvario incredibilmente violento. Alla fine l'entità è stata bandita da Bill e dalla chiesa. Da allora non ha segnalato altri episodi violenti e da quel giorno non accusò più strani fenomeni che lo avevano accompagnato durante la sua vita. Ad oggi tuttavia questo caso è considerato l'unico caso autentico di licantropia. Bene amici questo lungo tour nei casi più inquietanti dei coniugi Warren è terminato. È stato un video bello intenso grazie se avete visto il video fino alla fine. Lasciate un like se vi è piaciuto e ovviamente scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Noi come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui sul mio canale con tante altre storie misteriose. Ciao!